Ma non si è mai visto una cosa del genere, ballare sotto i placani a matertoni Non si può fare solo con corruccio di Folk Man, mai E questo è veramente grazie a voi, soprattutto a voi Sono arrivati i miei ballerini, sono arrivati i miei ballerini qui in pista, forza Ragazzi dovete fare il spazio adesso che sta ballando, sta arrivando la nostra marea di gente che sta ballando Voi che non avete ballato, c'è il giudice, guarda il po' di spazio che sta arrivando Potete ballare anche da questa parte ragazzi, vai E abbiamo ancora tanti passaggi da fare per questa notte della quadriglia Non è finita qui la quadriglia, noi continueremo fino alle due e mezza, massimo le due E sta certamente fino alle due e mezza, ma pure le tre, va Facciamo le tre e mezza e non se ne vanno più, vai, vai, non sei, vai Ragazzi vi dovete fermare qui, vi voglio qui davanti al palco Vi voglio qui davanti al palco No, no, ci hanno preso gusto adesso a ballare Ok, attenzione, portiamo a spazio la dava Portiamo a spazio la dava Vediamo cosa succede, visto che ballate nella strada Continuiamo a ballare nella strada, vai Masse, si cambia dava Vai, vai, vai Signori, aggrediamoci agli altri Voglio non ballare nella strada Guarda, vai, vai, vai Aggrediamoci agli altri, vai Pazze Non dovete correre ragazzi, non vi preoccupate Chiaro, chiaro Se non lo facciamo 117 2x3 Bravi 2x3 Pazze Piano piano, non dovete correre ragazzi, non vi preoccupate All'usore Sant'Umeda, il nuovo giro la femmina Ma come sono bravi, eh? Vediamo cosa succede adesso Ciro la rilascia, è un movimento bellissimo visto da qua sopra Arrieta, in quattro questo movimento Attenzione lì Ciro la rilascia Poi, c'è un movimento bellissimo visto da qua sopra Ciro la rilascia Ciro la rilascia Passi Ciro la rilascia Poi, c'è un movimento bellissimo visto da qua sopra Poi, c'è un movimento bellissimo visto da qua sopra E' una cosa incredibile, vedere di così intanto di ballare, non dovete correre ragazzi, non dovete correre, piano piano, non vi preoccupate, ma io lo faccio per voi, per farti smaltire quello che avete mangiato oggi, io ho fatto e ho studiato anche un po' da veterinario, so come vanno fatte certe cose, ma si, a volte c'è tanto spazio, a volte solo uno a torsato, perché stai arrivando un scusonissimo, ma vada qua, stai arrivando un scusonissimo qua, ma si, Passo e bravi, attenzione formiamo il cerchio, vediamo se riusciamo di nuovo a formare questo cerchio, questo si chiama Grand Houchet, la mano destra dell'uomo, nella mano destra della donna, mi raccomando, senza bruvi e non dovete correre, va bene, vediamo se ce la facciamo, ci siamo qui, ci siamo, qui mancano, qui mancano, qui mancano, dove sono, mancano alcune coppie da questa parte, mancano alcune coppie, Adizio Grand Houchet, vai, che porra, vai, vai, non fa niente, vai, vai, oh, si continua, si continua, continuate voi, vai, 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 che siamo vicini, vai, 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 non abbiamo mai tentato questo massaggio sotto i platani, mai tentato questo massaggio sotto i platani, il Grand Houchet è una cosa difficilissima, farla con tante persone, belle, simpatiche, sono identiche come voi, ragazzi, a questo punto vi voglio vedere qui, vi dovete fermare sopra il palco, tutti quanti ballando, dovete circondare il palco, perché dobbiamo fare le nostre difenze per i montalanti su YouTube, forza, fermatevi sotto il palco, da parti, ai lati, dietro, forza, fate spazio ragazzi, forza, forza, entriamo, entriamo, entriamo nella piazzetta, entriamo, entriamo, correle, vai, vai, ragazzi, ragazzi dovete fare spazio a chi sta ballando, grazie, dovete fare spazio a chi sta ballando ragazzi, vai, 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 vai Stanno arrivando, stanno arrivando, li voglio tutti, gentilmente signori facciamo un po' di spazio, gentilmente signori, signori facciamo un po' di spazio, vai! Ragazzi, vi voglio tutti qua sotto al palco, tutti, 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 vai, vai, sì, sì, ma stanno arrivando gli altri! Intanto vi voglio ricordare il giorno 29 di agosto, noi saremo e avremo l'onore di salire sul palco con il grande maestro Infino, di Liceo Capossena, a Capitri, quindi vi chiedo tutti a parlare da Quadriglia, perché sarà un evento storico, ci sarà anche dai 1, spero, anche dai 2, il 29 di agosto a Capitri, non mancate! Vai, vai, che siete bravi, vai! Dovete circondare il nostro palco per questo evento qui a Materdomi, il 15 di agosto, con Tomuccio, Antipo e Cattetta e il gruppo di Palolo Quadriglia, vai! Siamo ancora i pochi qua, eh, siamo ancora i pochi, vai, 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 vai! Signori, che non ballate, signori, fate un po' di spazio, stanno ballando, vedete che stanno ballando, vai! Vai, 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 siamo ancora i pochi, siamo ancora i pochi, ballate anche intorno, anche spi sopra, vai! Massimo! Bravi, bravi, forza, un giro, sì! Vai, 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 vai! Mi porto anche indietro, ragazzi! Forza, facciamo spazio a chi sta ballando, ragazzi, forza! Tenteremo di fare il batticulo anche qua sopra, dai! Intorno al palco! Tenteremo di fare il batticulo intorno al palco e nello centro, dai! Sì! Salutiamo tutti i nostri amici di Caposene, i giovani caposelesi, vai! Attenzione, non chiamo a spasso la dava! Sempre intorno al palco, vai! Adesso rimane il bello, dai, ragazzi! Dove decidere intorno al palco? Intorno al palco! Oh, non mi facciamo spacchinare adesso! Mi tengo tutti sotto controllo! Vai, 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 vai! Che siete bravi! E solo grazie a voi che è l'uscita di nuovo questa notte della quadriglia qui a Materdome, sotto i patani! Particulo! Passi! Ci possiamo anche allargare un poco, eh! Dov'è Vincenzo? Passiamo oltre, Vincenzo, il nostro fonico! Il nostro fonico, Vincenzo! Fate in giro, fate in giro! Oltre il nostro fonico, vai! Chiaro, 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 chiaro franco! Bota in modi! Vai, 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 vai! Dobbiamo fare ancora dei passaggi, forza ragazzi! E' una notte per la quadriglia! Forza! Stato girando, stato girando! Ragazzi, non voglio girare, 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 girare! Vedi come stai? Piano, 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 non mi preoccupare! Lo facciamo per voi, per farvi riposare un poco! Vai, vai! E' un perno più stretto! Allarghiamoci ancora un poco, dai! Stato seguendo, stato seguendo! Eccolo qua, vieni, vieni! Vai! Attenzione, attenzione! Vai, 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 vai! Ragazzi, dovete camminare! Vai! Passé! Bisogna, Vincenzo, bisogna fare il cerchio più largo! Più largo, vai! Ci riparo, come ci riparo, come ci riparo! Vediamo cosa è uscita tra poco, dai! Ricordiamo il cerchio! Vale, parla di tutti! Salutiamo gli amici che arrivano da Pantipaglia, da Salerno, da Campania, da Orinetto, dalla Valle del Seme, gli amici di Milioni, gli amici di Teora, gli amici di Cogliale e Coglialetto! Non diciamo ora! Gli amici di Coglialetto! Gli amici di Coglialetto! Gli amici di Salerno! Avvenziamo il tema sta sola, ma vai! Cerchiamo di prendere questo cerchio un po' più largo questa volta, dai! Però vi dobbiamo tenere sotto controllo! Vai, vai! Seguitemi, Coglialetto! Seguitemi, Coglialetto! Vai, vai! Vai! Bravi, 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 bravi! Vai, vai, vai! Che ci siamo, vai! Dovete sempre camminare, ragazzi, non vi preoccupate! Ma non è che sono cresciute le goffie qua, sono cresciute le goffie! Salutiamo tutti quelli che stanno partecipando a questa bella notte della quadriglia! Ci siamo blocati di nuovo, dobbiamo fare i cicci ancora più largo! Gira il papo, lori! E che cazzo, vai! Manai lo fazzulette, manai lo fazzulette, manai lo fazzulette, manai lo fazzulette, la filipeta, la compagnia vende, la compagnia vende, la compagnia vende, la compagnia vende sola sola! E vola, 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 non ce l'isca non ci vola! E vola, 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 retta, vinti, vola, va la scuppata! Non dico, vola, vola, e cunta, gamba, caccia dei paloni! E ballo sotto a mole, gamba, caccia da figliola! Lavo i miei, lavo i miei, rompevano senza metà, non si può da fare tra Lavo i miei, lavo i miei, è l'onda del cuglioso che mi stava solo tu Oh, sì! E come è giù il piano? C'è spazio ancora per alcuni gruppi, ragazzi, forza! H.B. San Bossa, però, questa sera, vai! H.B. San Bossa H.B. San Bossa Attenzione, cammini, portiamo il cerchio! Portiamo a spasso la dama, anzi, dai, portiamo prima a spasso la dama Portiamo a spasso la dama, allargiamoci un altro poco Vediamo se questa volta riusciamo a fare questo cerchio piccolino Ormai il tennis l'abbiamo battuto ancora una volta Attenzione, passe, vai! Si cambia dama! Seguite di centro, seguite, vai, vai, vai! Noi ci siamo, diciamo, siamo ancora in tanti E' un onore per noi, vai! E' un onore, è un onore! Passe! 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 Non voglio fare un panna, non voglio fare un panna, non voglio fare un panna, non voglio fare un panna come la zitta, ci vittimo per tante, ci vittimo per tante, ci vittimo per tante, sicurietà. E venga, 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 capo la morte, capo il cinto, capo la morte, capo il cuore, capito un'assia, il tuo amor. La voi lì e la voi lì, e per me senza me non so farò andare da La voi lì e la voi lì, e non fare il curioso che non ti sciamo solo tu Oh, sei! Siete stanchi? No! Vai, 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 siete bravi, non stanchi! Attenzione che vogliamo riportare a spazzo la trama E dove andiamo a fare questo passaggio? Ragazzi, dobbiamo prendere il circhio un po' più largo, dai! Vai, vai, piano piano, non vi preoccupate! Vai, piano piano! Passé! Attenzione con i mani 4, diventiamoci per 4! Diventiamoci per 4! Incateniamoci con le mani! Incateniamoci con le mani per 4! Vediamo cosa succede, vai! Arvio 3, si tratta da subire il destro! Ci siamo! 1, 2, 3! Questo è un bel momento, Marilena! Vai, 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 vai! Prima tanto, vai! 4, 6, 4, 6! Vai, 4, 6, 4, 6! 2, 3! Attenzione con i mani 4, 6! 3, 2, 3! 3, 2, 3! 3, 2, 3! 3, 2, 3! Giro di Bolo, che vuole il Giro di Bolo! Tenteremo di fare questo partituro finale, dai ragazzi! Tenteremo di fare questo partituro finale! Perchere questo partituro tutto per il giugno! E inici Teddy! Perchere qui! Mancherà! EICKE! dall'inonezione! Perchere qui! Arrappiamoci ragazzi Arrappiamoci Mi saluta Vai 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 Bisogna camminare ragazzi Bisogna camminare Aspettate che si allunga il cerchio Camminate ragazzi Camminate guardate dove sono gli altri Tino mamma non deve dare fastidio in questo momento Forza La quadriglia è sacra È una cosa sacra Secondo me questa volta ci siamo quasi riusciti Devi tenere il cerchio più in largo Più in largo Vai 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 Non ti vuole ragazzi Non ti vuole Vai vai ci siamo Vai È ancora troppo stretto il cerchio Ma forta miseria Ma te stasera Gino di ballo Vincenzo A peggio che voi portiamo a spesso la dama Seguite il nostro ballerino Voi che siete solo là Sul dietro Vai corsa Vai 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 Portali dietro Portali dietro Vai 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 돌 Vai Vai che dobbiamo fare quest'ultima tatticula Ma se non ci allunghiamo un poco Non riusciamo a fare tatticula Continua Continua Vai 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 Gira, 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 gira Puoi girare adesso, vai Dovete camminare ragazzi, camminate, camminate Vai Dovete seguire quel cerchio là, guardate Da questa parte Vai Vai, vai, vai Vai, 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 bravi, bravi Ci siamo, eh Finalmente, ci siamo quasi Ci siamo quasi, bravi Attenzione, formiamo un cerchio, vai Formiamo un cerchio Formiamo un cerchio Così li tengo tutti qua sotto controllo Ci siamo per il batticulo finale Allargiamoci, allargiamoci ancora un poco Ah, se che va qua Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima, dai Dobbiamo circondare di noi i platani Eh, non ce la facciamo Non ce la facciamo questa volta Non ce la facciamo Coluccio Io non ho una gentilanza Siamo più di 2.000 Allargiamoci, allargiamoci Allargiamoci, allunghiamoci Vediamo cosa succede, dai Visto che siamo ancora qui Sì, sì Vai, vai, scendiamo sotto Scendiamo sotto Hortensia, puoi lasciare la patina Vai Vediamo cosa succede Sono aumentate le bocchie Eh, vai, vai, piano, piano Senti a pressa Non ti preoccupare Piano piano, vai Vai Non mi dovete distaccare Perché adesso, eh Vai, 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 vai Ci siamo di nuovo In una serata Abbiamo fatto Piss Lino Due volte hanno circondato i platani Siamo pronti per il batticulo Ragazzi, forza Datevi la mano qua Non dovete scappare Dove sono, dove sono, ragazzi Dove le girare Aspettate gli altri Aspettate gli altri Attenzione Attenzione Fermalo Questo è il batticulo finale, ragazzi Forza C'è male a destra E uno E due E tre All'inno MC All'inno E' un divertimento, ragazzi Vederli da Corfu così tanti Parlare del batticulo a Caposele Nella madre della quadriglia Questa quadriglia E tutti ci indignano Ma tutti sanno parlare Grazie ai gruppi musicali di Caposele Grazie ai ballerini di Caposele Che hanno si puntato questa bella quadriglia Nella storia dei litosi Che non sono Ma sì Vai, vai, vai Mancano alcune coppie qua Mancano alcune coppie E veniamo tentato di nuovo L'impossibile Mancano Ma fa niente Fa niente Aggreghiamoci, ragazzi Forza Aggreghiamoci Mancano molti metri Aspettiamoli, aspettiamoli Vai Aspettiamoli Aspettiamoli Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Ci siamo quasi, ci siamo Eccoli qua E se Ricostituito il cerchio Per la seconda volta Vai Attenzione Sembra la destra Ehi Sembra la destra Mi raccomando E uno E due E tre Ehi 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 Senza Ebrugli Mamma mia Come sono Arrapati Guarda Ehi 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 Vieni Marotta Che un dolore Mancano Vuoi girare Mamma Non c'eri Adesso Ehi Vieni Marotta E tu Bello Ma che Tieni Da Sta Sacca Che Una Cava Rella Grotta Vuoi Cucere E fatti Cogli E' nata Botta E' nata Cora E vuoi Marotta E tu Si Ma ti Ma ha fatto Ma Giro Di Ballo Giro Di Ballo Oh Vai 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 Ultimo Giro Ragazzi Vi Invito A fermarmi Sotto Al Palco Vi Invito A fermarmi Sotto Al Palco Vi Invito A fermarmi Sotto Al Palco Forza Bravi Bravi Tornado Tronado Tronado And E' potuto fare il suo comodiero! E' 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 il suo comodiero! Vai! Signori! Ballerini! Vi voglio vedere ballare anche dietro al palco! Anche dietro al palco! Guarda come sono! Velocizzati laggiù! Fermiamoci qui! Fermiamoci! Questa è peggio di una partita di calcio! Eeeh! Stanno arrivando anche alle nostre spalle i nostri ballerini! Ragazzi! Fate spazio gentilmente! Fate ballare i nostri ballerini! Ragazzi! Vincenzo! Girate da questa parte! Forza! Il nostro campoballerino! Eeeh! Gentilmente! Fate un po' di spazio! Stanno ballando! Girateci intorno! Girateci intorno! Forza! Vai! 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 Vi vogliamo vedere dietro al palco! Ballare anche! Forza! Bravi! Siamo circondati! Siete circondati! Vai! Per quest'ultimo lascio finale della quadriglia! Batticulo Caposenese! Vai! Vi voglio vedere ballare dietro al palco ragazzi! Dietro alle nostre spalle! Oh! Per quest'ultimi giri! E adesso tenteremo il lascio finale con il nostro maestro Antonio Donaltuoni! Vai! Questo ragazzo che ha 80 miei! Vi mando 80! Di più! Diciamo 80! Dai! 80 miei! Dai! Vai! Si accelera! Si accelera per quest'ultimo lascio della quadriglia! E batticulo! E batticulo! Vai! Oh! Si! Vai! 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 È bellissimo! Ultimo uccino, ultimo uccino per questa notte della quadrigna. Siamo noi che dobbiamo ringraziarvi. Io vi ringrazio a nome di tutti, di tutto il gruppo, naturalmente, di tutto il gruppo di ballo alla quadriglia. Spero che vi state divertendo, è un gioco ragazzi, vero?